Qual è la disponibilità economica? Il 5% consentirà di poterlo fare in pochi anni e soprattutto senza aggravare particolarmente sugli aumenti tariffari. Noi vogliamo ovviamente evitarlo perché adesso quella che è la discrezione data al territorio è un 5% annuo, però ovviamente con supplementi distruttori all'autorità centrale dell'energia del gas e del sistema etico integrato può essere anche ovviamente motivate, sostenute aumenti superiori. Però è chiaro che questo ha un impatto sociale che noi vorremmo evitare.